Potenziare la rete gas, entrare nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica e ampliare l'offerta ambientale con un nuovo impianto per il pretrattamento dei rifiuti. Sono i principali obiettivi dell'utility di Como e Monza a CSM Agam contenuti nel piano industriale 2013-2015 che prevede un margine operativo netto in crescita fino a 20,7 milioni rispetto ai 16,9 del 2011. Un business plan da 83 milioni di euro di investimenti, di cui 50 destinati alla distribuzione gas per crescere in termini di concessioni, clienti e lunghezza delle reti. Partiranno dal 2013-2015 le famose gare d'ambito, gli ambiti in cui noi siamo interessati all'interno della regione Lombardia sono sostanzialmente tre, Como 1 e Como 2 che rappresenta anche il triangolo lariano e Monza a est. Al tempo stesso il piano industriale del gruppo prevede l'ingresso nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica con lo sviluppo di nuove offerte. Noi ci rendiamo conto che trova accoglienza particolarmente favorevole da parte dei nostri clienti o da parte dei clienti potenziali un'offerta congiunta a gas ed elettricità. Quindi ci stiamo attrezzando. Circa un milione di euro infine sarà destinato alla realizzazione di un nuovo impianto legato al termovalorizzatore Ecomasco per far fronte al calo dei rifiuti, dovuto in parte alla crisi economica e in parte all'aumento della raccolta differenziata e al crescente numero di comuni che affidano tramite gara il servizio di smaltimento. Noi abbiamo notato ultimamente che c'era la possibilità di un calo dei conferimenti dei rifiuti solidi urbani e allora noi abbiamo pensato di andare a riempire questo possibile vuoto che si dovesse creare con un nuovo impianto, un impianto di triturazione dei rifiuti solidi ingombranti. Grazie a tutti.